Buona serata a tutti e ben trovati, ben ritornati a questo nostro appuntamento mensile con una rubrica dedicata ai misteri della storia, ma anche ad uno strumento per aggiornarci su quelle che sono state le principali e più interessanti realtà di questo periodo. Quella che vedete è una registrazione, ma gli appuntamenti futuri saranno fatti ovviamente sempre in live, per questioni personali stasera non potevo essere presente alle 21, per cui per non saltare un appuntamento che comunque è diventato ormai importante, che mi chiedete spesso anche nei messaggi privati su Facebook, non solo non ho voluto saltarlo e ci tenevo appunto a condividere con voi nuovi realtà, nuovi argomenti, nuovi temi che sono emersi in questo periodo, concludendo anche quello che poi era stato l'appuntamento precedente, dove purtroppo per questioni di linea non eravamo riusciti a finire come volevamo, ma che finiremo in questo nuovo appuntamento, proponendo anche una chiacchierata, una discussione su nuovi temi. Nel momento in cui aspetto che vi colleghiate, intanto volevo appunto salutarvi, ringraziarvi di essere qui presenti, ringrazio Focus 3.0 che mi concede questo spazio per aggiornarci sulla storia e sul mondo, sul passato e sulla nostra attualità e devo dirvi che questa sera ho scelto per voi due temi che ritengo importanti, ritengo veramente fondamentali, che riguardano appunto scoperte a livello astronomico e scientifico. Notizie che per la maggior parte dei casi sono state così un po' passate sotto cortino, anche sotto silenzio dai media nazionali e questo è un vero peccato perché nonostante quello di cui andremo a parlare non ci sia una prova provata al momento della loro reale effettività, però almeno in un caso ci troviamo davanti a qualcosa di veramente sensazionale. E con l'aiuto delle news utilizzerò l'iPad per potervi leggere la notizia che ritengo veramente interessante, partiamo subito partiamo subito a parlare con un tema che è venuto fuori pochissimi giorni fa, le notizie sono rimbalzate in tutto il mondo tra il 17 e il 18 giugno, qui ho peso la prima che mi è capitata, ma comunque per completezza contiene tutti i dati che ci interessano e titolava dal sito di Nicola Porro che al di là delle appartenenze politiche lungi da me e da noi volerle fare semplicemente come vi dicevo è stato il primo articolo completo ed esaustivo che parlava dell'argomento, il sito di Nicola Porro che è comunque un importante giornalista italiano titola il 18 giugno i cinesi su Nature, la nota rivista di divulgazione scientifica, abbiamo trovato gli alieni. E che cosa ci racconta? Il dato è veramente curioso perché, ve lo leggo, dice la ricerca cinese afferma viene da una nanogalassia povera di metalli, hanno scritto nel loro studio appena pubblicato su Nature gli astronomi cinesi, come riportato anche dal Corriere della Sera, per cui sul Corriere della Sera online riuscite a trovare anche questa notizia, ma così anche la Repubblica e i maggiori quotidiani l'hanno riportata e a livello televisivo che non c'è stata una copertura come ci si sarebbe aspettato. Praticamente i cinesi affermano di avere captato dal 2020 almeno un paio di segnali che ritengono di natura artificiale, quindi non sono quasar o fenomeni astronomici ancora da scoprire, ma a tutti gli effetti sembrerebbero dei segnali intelligenti, quindi prodotti nella nostra galassia da qualcuno di intelligente, quindi da esseri extraterrestri. L'articolo prosegue dicendo dobbiamo indagare ancora e ci vorrà un po' di tempo, fa sapere il professor Zhang Tongje che guida il progetto FAST e dirige il team di ricerche extraterrestre al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Pechino. Forse, continua il dottor Zhang, gli extraterrestri ci hanno mandato un messaggio e in futuro potremo avere bisogno del loro aiuto, conclude l'astronomo cinese. Che cos'è FAST? FAST è un enorme radiotelescopio che si trova in Cina, il più grande al mondo. Non so se l'avevate letto, ma Arecibo, che era quello molto più noto e famoso, tanti film come Contact e non solo, sono stati anche girati in quel posto, e Arecibo si trova a Puerto Rico, hanno avuto il problema che per mancanza di fondi sono stati letteralmente abbandonati a loro stessi, quindi Arecibo c'è un progetto per rimetterlo in funzione, ma oggi si è distrutto in parte perché sono crollate parte delle strutture che lo componevano, così come la vegetazione ha iniziato a prendere il sopravvento e quindi a distruggere da un'altra parte quello che era appunto questo grande radiotelescopio cinesi che non hanno, non gli mancano i mezzi, non gli mancano i fondi, che cosa hanno fatto? Hanno costruito negli anni un altro radiotelescopio e in questo caso appunto il FAST che sta per 500 Meter Aperture Spherical Telescope ed è un, come dice l'acronimo stesso, il termine stesso è un enorme radiotelescopio di 500 metri di diametro, quindi qualcosa di veramente enorme, gigantesco e sto leggendo l'articolo appunto questo radiotelescopio si afferma che ha captato dei segnali intelligenti extraterrestri provenienti dal cosmo. Vi leggo testualmente continuo nell'articolo, nel documento dello Science Technology Daily è stato riportato che il team di Zhang ha individuato due serie di segnali nel 2020, quindi si parla di due anni fa mentre analizzava i dati delle osservazioni di FAST del 2019, quindi i dati sarebbero stati captati nel 2019, tre anni fa, analizzati nel 2020, la notizia sarebbe stata divulgata solo in tempi recenti, appunto a giugno di quest'anno. Una notizia che comunque sia ha avuto le pagine di Nature per essere divulgata, quindi vuol dire che il primo screening, le prime verifiche sull'attendibilità di quello che questi studiosi affermavano su quella che era la loro presunta scoperta di segnale extraterrestre, aveva passato il vaglio, il primo vaglio di una serie di studiosi e di scienziati, se così le vogliamo chiamare, per vedere se i dati erano attendibili. Zhang, per escludere la possibilità che le rileverazioni siano interferenze radio e approfondirle, ha fatto sapere che il telescopio ripeterà l'osservazione dei segnali sospetti. Ovviamente non ci si può basare su due singole osservazioni, ma quello che si spera è che ci siano altri segnali, quindi che questi messaggi o quello che siano si ripetano nel tempo e quindi si possa confermare la loro natura extraterrestre. Fino ad oggi conoscevamo tutti il progetto SETI, che ormai dalla fine degli anni 60 era stato imbastito grazie al famoso scienziato, al famoso astronomo Drake, padre anche dell'omonima formula. La cosa incredibile è che in tutti questi anni, dalla fine degli anni 60, inizio 70 ad oggi, il progetto SETI non ha mai prodotto veramente delle prove. Ancora prima degli indizi sostanziali di segnali intelligente nel cosmo. Sicuramente era uno strumento importantissimo, era uno strumento fondamentale che ci ha permesso anche solo mentalmente di proiettarci verso la ricerca di vita nel cosmo, ma come si diceva a livello pratico non ha prodotto nessun tipo di risultato. Anzi, ci sono stati anche tantissimi scienziati che hanno contestato il progetto SETI come una sorta di enorme pozzo senza fondo in cui i finanziamenti finivano, ma i risultati non sono mai arrivati. La mia personale opinione è che il progetto SETI è stato sicuramente importante e fondamentale, ma c'è stato un punto nevralgico che forse è stato preso in considerazione quando partì, ma non è mai stato bypassato, non si è mai andati oltre, cioè il fatto che noi con il progetto SETI abbiamo cercato dei segnali radio nel cosmo, quindi comunicazioni di tipo radio nell'universo osservabile o almeno in quello indagabile. Il problema è che non è detto che una civiltà, soprattutto se superiore alla nostra, comunichi con le onde radio. Molto probabilmente avranno sviluppato anche questo sistema, ma verosimilmente possono avere creato dei sistemi di comunicazione o a noi del tutto sconosciuti, quindi impossibili da indagare attraverso il progetto SETI, oppure hanno utilizzato dei sistemi che noi non abbiamo considerato come fonti di messaggi. Mi spiego meglio, possono avere mandato dei messaggi attraverso dei raggi laser, possono avere mandato dei messaggi in altre forme e con altre tecnologie che magari già noi possediamo, ma che non rientravano all'interno di quello che il progetto SETI utilizzava. Quindi il progetto SETI, come anche il FAST, è stato un enorme e importantissimo strumento per scandagliare il cosmo. Il progetto FAST non nasce con lo scopo principuo di analizzare e scandagliare il cosmo alla ricerca di vita intelligente, ma tra i suoi scopi, oltre a quello della radiastronomia ha anche questo, quindi si unisce due versanti di una stessa medaglia per cercare contemporaneamente segnali radio di tipo naturale, quindi studiare il cosmo attraverso i radiotelescopi e dall'altra cercare dei segnali intelligenti. Tutto questo ci porta comunque davanti a un dato di fatto, un dato di fatto che è fondamentale nella nostra storia attuale, segnata soprattutto negli ultimi anni da dei momenti veramente difficili, da situazioni che speriamo si possano risolvere presto, e mi riferisco sia alla pandemia del Covid sia alla guerra in Ucraina. Non sono gli argomenti della nostra discussione, non è il nostro campo di indagine questo, è però la possibilità che siano stati captati, trovati due possibili segnali extraterrestri, sarebbe veramente un passo epocale. Uso il condizionale perché la scienza stessa non è sicura, ma noi sappiamo benissimo che il cosmo sicuramente pullula di vita, sicuramente nel passato ci sono stati dei contatti, ci sono stati degli scambi tra esseri provenienti da altri pianeti e la nostra razza, le nostre civiltà. La scienza ufficiale ovviamente vuole la prova provata dell'esistenza di queste altre forme di vita rispetto a noi, non ne siamo ben consapevoli, lo ripeto a scanso di equivoci, ma questa scoperta se fosse confermata ulteriormente ci porrebbe veramente davanti a un bivio storico. Io personalmente, ma insieme a tanti altri ricercatori, riteniamo che la scoperta di vita nel cosmo possa a buon diritto considerarsi forse la scoperta più importante della storia umana, cioè quella di non essere un solo pianeta abitato, ma che fuori dalla nostra piccola atmosfera, dal nostro piccolo pianeta, possano esistere altre razze, altre civiltà, magari più avanzate di noi, non è detto, ma è molto probabile a livello statistico. La cosa che mi ha lasciato e ha lasciato in tanti molto esterefatti è appunto il fatto che i media attraverso internet ne hanno parlato abbondantemente, i media principali non hanno dedicato se non qualche secondo per segnalare la cosa e questo è veramente un po' forse squallido alla fine dei giochi, insomma è una scoperta che potrebbe cambiare anche la vita a tutti noi. Un'altra scoperta molto interessante con cui confrontarci, che è veramente recente, anche qui stiamo parlando più o meno allo stesso periodo, quindi la seconda parte di giugno, è il fatto che continuano le ricerche anche nel nostro sistema solare interno e nelle zone vicino. Questo per tanti motivi, per conoscere meglio quello che è un po' la nostra casa, per quanto sia estremamente vasta, ma anche perché è indubitabile che il nostro sistema solare, così come la fascia di cui per la nube di Hort, ma anche la zona di detriti che si trova più vicino al nostro pianeta Terra, sono un potenziale pericolo per il nostro pianeta e la vita, perché conosciamo benissimo dall'estinzione dei dinosauri al Younger Drias, quell'evento che si affiancò alla fine dell'ultima glaciazione ben 12.000 anni fa, hanno portato a degli impatti sul suolo terrestre di meteoriti di piccole o grandi dimensioni che hanno letteralmente spazzato via e distrutto intere zone del pianeta, quindi studiare il nostro sistema solare e le immediate vicinanze ha un ruolo, un'importanza veramente grande per noi terrestri. Il fatto curioso però è che sapete come Plutone sia stato declassato non molti anni fa, non è più un pianeta del nostro sistema solare, secondo gli studiosi, secondo gli astronomi, ma è stato declassato a planetoide, quindi un pianeta molto piccolo che non rientra, prima erano nove e ora sarebbero otto. Quindi cosa succede? C'è tutto un filone di ricerca che sia legato alle teorie di Zeccaria Sitchin, quindi al famoso dodicesimo pianeta Nibiru, a quella che sarebbe appunto il pianeta degli Anunnaki o Anunnaki, che dir si voglia, che in tempi antichissimi avrebbero visitato il nostro pianeta e quindi anche creato, secondo quella tradizione, nella razza umana, secondo tanti studiosi ci sono altri pianeti nel nostro sistema solare che possiedono un'orbita ellittica e quindi non sono facilmente visibili, almeno in tempi storici recenti, dai nostri telescopi e dai nostri strumenti. Dicevamo che Plutone era stato declassato, molti di voi, penso, avranno sentito parlare del famoso decimo pianeta, che oggi diventerebbe il nono con questo declassamento di Plutone. Ecco, la notizia importante che hanno riportato vari media nazionali e anche e soprattutto internazionali, qui ho preso Esquire, ma ce ne sono tantissimi altri, è la domanda se esiste questo nono pianeta o decimo, secondo la vecchia nomenclatura, nel nostro sistema solare. La cosa curiosa è che sono venuti fuori tutta una serie di studi e ricerche scientifiche che avvalorano, comprovano l'esistenza di questo planetoide di medio-grandi dimensioni, sarebbe addirittura più grande di Plutone, quindi una massa veramente ragguardevole e avrebbe un piano orbitale molto ellittico, molto allungato, quindi come nel caso di Nibiru, ma questi sono solo parallelismi, il suo tempo di rivoluzione sarebbe veramente lungo all'interno e all'esterno del nostro sistema solare, quindi noi non saremmo stati, almeno in tempi storici come dicevo recenti, in grado di vederlo facilmente, proprio perché si sarebbe trovato molto distante dal pianeta Terra e anche dal sistema solare. La cosa curiosa è che ormai si contano veramente quasi a centinaia, direi, e non è uno scherzo, basta che andiate su aggregatori di studi scientifici come PNAS o Archibs, troverete veramente tantissimi studi che riguardano appunto il decimo pianeta o oggi nono pianeta e quello che Squire riporta nel suo articolo del 19 giugno appunto è che questa ricerca continua e le prove della sua esistenza stanno aumentando. Questo ovviamente ci pone davanti a un bivio, anche qua come dicevamo poco fa per la scoperta di possibili segnali extraterrestri, la scoperta di un altro planetoide nel nostro sistema solare ci pone a farci delle domande veramente interessanti, anzitutto Sitchin, Sitchin aveva ragione, aveva torto? Beh, allora se posso esprimere la mia opinione, io personalmente penso anzitutto che Sitchin sia stato un grande spartiacque storico, e grazie ai suoi studi e al suo lavoro che oggi un certo filone di ricerche in cui rientro anch'io con l'India e l'Estremo Oriente ha un certo credito ma anche un certo interesse verso il pubblico. Sitchin come tutti, come me, come qualsiasi ricercatore che fa queste ricerche era passibile di errori, ha commesso degli errori ma non per questo deve essere condannato. Sitchin ha fatto un lavoro esemplare per tantissimi anni della sua vita e proprio il fatto di identificare altri pianeti secondo le tradizioni dei testi uniformi, sumeri, altri planetoidi che sarebbero orbitati all'interno e nelle vicinanze del nostro sistema solare ha fatto scattare un certo interesse sia nel mondo degli appassionati di questi temi sia anche per poi quelli che sono diventati anche dei ricercatori che hanno approfondito questa tematica con gli strumenti a loro disposizione, quindi gli strumenti veri e propri della scienza. La possibilità che ci sia un altro pianeta nel nostro sistema solare è fondamentale, non avvalora né confuta quelli che sono gli studi di Sitchin ma rientra nell'alveo delle sue ricerche e quindi potrebbe dare ulteriormente supporto a quelle che sono state alcune delle sue teorie. Personalmente penso che sia veramente importante studiare non solo, come si diceva prima, dei segnali di origine extraterrestre e continuare a cercarle magari con modalità e strumenti che siano al passo con i nostri tempi ma anche che possano prendere in considerazione quelle che potrebbero essere le tecnologie di altre civiltà. Allo stesso tempo studiare la parte vicina della nostra galassia, il nostro sistema solare ci aiuta a conoscerlo meglio, ci aiuterà un domani a poterci spingere oltre i confini del sistema solare e quindi sapere che cosa incontreremo e quali pianeti magari ci si porranno davanti. Il caso del nono pianeta che ormai da almeno una ventina di anni, ma anche forse di più, si continua a parlare incessantemente è importante. Sicuramente la vita non potrà esserci se non, escludendo in questo momento le teorie di Sitchin, la vita semplice non ci potrà essere perché si tratterebbe di un pianeta comunque così distante dal sole che non potrebbe sfruttare i raggi solari per mettere l'acqua in forma liquida, permettere che la vita si sviluppi almeno in superficie in un certo modo. Una vita intelligente sarebbe possibile solo nell'ottica di Sitchin, cioè quella di un pianeta che è diventato una sorta di struttura alta a far sopravvivere questi esseri, quindi con tutte quelle strumentazioni, tecnologie e soprattutto strutture che potrebbero permetterlo. La ricerca va avanti, la ricerca non si interrompe, quelle che sono i limiti di oggi saranno sicuramente superati domani, ma se in vent'anni gli studi, le ricerche hanno portato a rendere sempre più credibile l'esistenza di questo nono pianeta vuol dire che realmente là fuori qualcosa c'è, qualcosa si nasconde ancora ai nostri occhi e sarà bello un domani non solo scoprirlo e capirne la natura ma anche indagare quando sarà possibile ovviamente la la sua superficie, quindi capire se ha potuto ospitare la vita o se la vita ci sia ancora. Mi viene tra l'altro in mente, e qui magari ne parleremo sicuramente in un prossimo appuntamento, che un altro filone di studi e ricerche molto interessante ha prodotto dei risultati veramente affascinanti negli ultimi due anni. E sto parlando appunto di quello che è chiamato il motore a curvatura o warp drive, che penso tutti voi abbiate visto, conosciuto almeno tramite telefilm come Star Trek o film come Interstellar. Ecco, lo studio di quei sistemi propulsivi che sembrano tanto avveneristici, tanto incredibili per la nostra tecnologia e la nostra specie, in realtà sappiamo benissimo almeno dal 1992-93 che sono realizzabili dal punto di vista teorico, quindi la teoria, e parlo di fisica, matematica, ci dice che sono creabili, attuabili e costruibili un domani. Ecco, dei piccoli, intendo piccoli perché le dimensioni in cui sono stati ricostruiti sono infinitesimali, dei piccoli esperimenti fatti negli ultimi due anni, ci stanno portando con la tecnologia sempre più avanzata a piano piano realizzare questi strumenti. Sono stati fatti degli esperimenti in cui si è tentato di creare una bolla a curvatura, ovviamente non è stata creata, ma si è visto come i principi fisici che stanno dietro queste realtà siano un domani governabili dalla razza umana. Penso questo sia veramente incredibile perché nel momento in cui dovessimo raggiungere un certo tipo di tecnologia ci troveremmo davanti alla possibilità di viaggiare nel cosmo, nell'universo, in tempi veramente infinitesimali rispetto a quelli che dovremmo giocoforza avere oggi nel caso usassimo dei propollenti liquidi o solidi come vengono fatti nei razzi normali. Ecco, un motore a curvatura, come ben conoscete, ci permetterebbe di spostarci da un punto A a un punto B piegando lo spazio-tempo in un tempo veramente infinitesimale. Questa è la scienza, questo è il progresso e se da una parte tanti scettici, mi si concede il termine, che sono anche molto spesso scienziati, deridono e contestano il lavoro che noi magari ricercatori, soprattutto indipendenti, ma non solo, ci sono anche tanti accademici, facciamo, nella realtà dei fatti tante cose vengono trovate, scoperte, tante scoperte scientifiche, avanzamenti tecnologici dimostrano la plausibilità o la realtà di cose che prima venivano considerate un po' impossibili oppure venivano derise in quanto ritenute improbabili o inverosimili. Ecco, questo è la scienza e l'avanzamento e speriamo che tante cose su cui noi indaghiamo e studiamo e ricerchiamo ci possano permettere di capire meglio il mondo in cui viviamo e anche l'universo in cui ci troviamo. Bene, continuiamo quindi con quello che era stato l'argomento interrotto la volta scorsa. Purtroppo per questioni di linea la live si è bloccata a un certo momento e non siamo potuti andare avanti, questa volta siamo sicuramente molto più fortunati, ma ho ricevuto tanti commenti da parte vostra, mi avete scritto in molto in privato chiedendomi appunto di riprendere l'argomento sulla via di San Michele e quindi questa volta faremo un piccolo riassunto iniziale, magari per chi non ci ha visto prima, non ci ha visto il mese scorso e proseguiremo portando poi a conclusione quello che è questo affascinante, veramente incredibile caso che ancora rimane totalmente aperto. Bene, che cos'è anzitutto la via di San Michele? In breve è una linea ipotetica che dall'Irlanda, poi vi farò vedere fra poco un'immagine, dall'Irlanda giunge fino alla Palestina, al Monte Carmelo e su questa linea ipotetica immaginaria che vedete è stata identificata, tracciata nel cielo, che cosa succede? Beh, sono disposti tutta una serie di eremi e santuari che sono stati dedicati all'arcangelo Michele, eremi e santuari che non nascono così in maniera spontanea, ma in questi luoghi precisi la tradizione, la religione soprattutto vuole che l'arcangelo Michele fosse apparso e avesse chiesto che in quel luogo fosse costruito un santuario in suo nome. Quindi andiamo da Skelling Michaels che si trova appunto in Irlanda, passiamo per le più importanti sono Mont Saint Michel in Francia, in Normandia, poi troviamo in Val di Susa l'eremo di San Michele, nel Gargano quindi in Puglia un altro eremo, ma in questi spazi enormi in mezzo ci sono tutta una miriade a Pavia, a Lucca, di eremi dedicati a quest'arcangelo Michele, la cosa curiosa appunto è che sono disposti nella buona parte, ovviamente ce ne sono tantissimi esterni a questa linea, ma i più importanti, quelli che appunto videro anche e soprattutto l'apparizione dell'arcangelo Michele, si trovano su questa linea immaginaria che come vi facevo vedere, come si diceva, parte dall'Irlanda e arriva fino al Monte Carmelo. Si è cercato di capire il perché, si è cercato di studiare come mai ci sia un'alta percentuale di questi santuari in questa linea, ma ad oggi ovviamente non c'è una spiegazione. La leggenda, la tradizione più antica vuole che quando San Michele scacciò Satana, Lucifero dal cielo, con la sua spada nell'atto appunto di scacciare Satana, avesse segnato dei punti sul terreno in cui poi sarebbe apparso, in cui poi sarebbero stati costruiti questi eremi. Una spiegazione un po' più prosaica e forse più terrena è il fatto che la linea di San Michele, la via di San Michele, forse più corretto dire, ripercorreva un'antica via di pellegrinaggio che si affiancava alla ben nota via Francigena e anche alla consorella via Cammino o via di Santiago de Compostela, quindi una via di pellegrinaggio che appunto toccava dei luoghi di tutta l'Europa, luoghi importanti per il culto cristiano e cattolico e che erano luoghi importanti soprattutto perché vedevano la presenza dell'Arcangelo Michele. Di controparte c'è qualche studioso che ha anche ipotizzato che la linea di San Michele, e ci sono degli elementi anche storici e direi anche archeologici a sostenerlo, la linea di San Michele, almeno nella parte del sud Italia e della Grecia, ripercorreva invece quelli che erano i luoghi sacri al dio Apollo e la figura di Apollo nel momento in cui il cristianesimo prende il sopravvento e diventa piano piano con Costantino sempre più una religione universale, e quindi con una diffusione sempre più ampia, il dio Apollo viene sostituito appunto dall'Arcangelo Michele. È interessante poi vedere come l'Arcangelo Michele avesse un luogo importantissimo di culto nell'antica Bisanzia o Costantinopoli o Istanbul moderna. Addirittura a Costantinopoli esisteva una chiesa in forma circolare, oggi purtroppo scomparsa e inglobata all'interno di Hagia Sophia, quindi di una moschea meravigliosa, ma esisteva appunto, voluta probabilmente da Costantino, il Michaelio. Nel Michaelio a Costantinopoli era un luogo, una chiesa, una struttura, in cui secondo le tradizioni, secondo i testi dell'epoca, l'Arcangelo Michele ogni tanto compariva e faceva miracoli. Ci interessa questa struttura perché non si trova lungo la via Michelita, ma perché il culto degli angeli a livello storico, almeno per come lo conosciamo oggi, inizia proprio nell'antica Frigia e l'antica Frigia appunto è la Turchia moderna. Quindi forse questi luoghi sono stati importanti non solo per il passaggio della Sindone, non solo perché oggi ospitano siti archeologici incredibili come Gobekli Tepe o Carantepe, o città come Chattaluyuk, che sono databili almeno 10-11 mila anni fa, ma perché hanno visto la nascita appunto del culto moderno degli angeli. San Michele è fondamentale in tutta la tradizione cristiano-cattolica perché è colui che dipana, che scaccia le nebbie di Satana e che porta la luce, colui che dal buio riporta la luce di Dio, secondo questa tradizione. È colui che però venne anche eletto a protettore di molti eserciti del passato, questo anche per il fatto che non solo era un guerriero, un guerriero che scaccia Satana ribelle, ma anche perché molto spesso l'iconografia, anzi quasi sempre, ce lo ha mostrato con un'armatura, una spada, una lancia in mano, quindi diventò il nome protettore di tantissimi eserciti del passato. Ma allo stesso tempo San Michele era considerato anche il protettore del fiume Nilo, secondo la tradizione copta, così come gli veniva attribuito un ruolo di psicopompo, come si dice usando un termine greco, cioè di una sorta di caronte, di traghettatore, tra il mondo materiale nel momento della morte e il mondo spirituale, e quindi una funzione anche di non permettere che l'anima della persona morente o morta fosse presa da entità maligne e quindi portata in quello che è l'inferno. Ovviamente ci collochiamo in una visione cristiano-cattolica, per cui gli elementi di riferimento sono questi. Ma la cosa più interessante, se noi arriviamo a vedere dove finisce la via di San Michele, è il fatto che finisca appunto nella catena del Monte Carmelo, Ora, il Monte Carmelo è noto, penso a tutti voi, come una montagna, in realtà è una catena montuosa lunga circa 39 km, quindi abbastanza ampia, e ha visto a livello dell'Antico Testamento diversi personaggi molto importanti, da Elia non solo, ma il fatto curioso è che la linea di San Michele, la via Michelita, curiosamente finisce in un luogo che è molto importante, perché agli inizi della catena montuosa del Monte Carmelo si trova una città che è Meghiddo, che secondo l'Apocalisse di San Giovanni, secondo quella che è tutta la tradizione, chiamiamola l'Apocalittica dell'Antico Testamento, vedrà la battaglia finale, cioè la battaglia proprio tra gli eserciti divini di Dio e gli eserciti di Satana. È curioso che questa linea finisca lì, Armageddon, che è un termine che penso sicuramente molti di voi avranno sentito nel corso delle proprie letture, studi o anche vedendo documentari, Armageddon sarà proprio questa battaglia finale tra le forze del bene e le forze delle tenebre. E Armageddon vuol dire letteralmente la collina di Meghiddo, proprio perché secondo la tradizione il luogo in cui si svolgerà questa battaglia finale sarà appunto la città, la collina in cui si trova la città di Meghiddo che guarda caso è agli inizi proprio del Monte Carmelo. Quello che ci insegna la via Michelita è che ci sono delle questioni che non possono trovare una spiegazione, ovviamente ognuno è libero di crederci come no. È un fatto curioso che tantissimi santuari siano disposti lungo una direttrice, che tanti di questi abbiano visto, secondo la tradizione, l'apparizione dell'Arcangelo che chiese che in quei luoghi fosse appunto eretto un santuario in suo nome, è curioso che questa linea finisca proprio in quel luogo che la tradizione cristiana, cattolica, vogliono sia il luogo in cui si svolgerà la battaglia finale. Ovviamente anche in questo caso ci sono stati studiosi che hanno fatto anche dei calcoli statistici vedendo come una buona parte dei santuari dedicati a San Michele non sia proprio sopra la linea come l'abbiamo vista tracciata prima, ma si trovino addirittura a una distanza tra i 14 e i 40 km dalla linea stessa, molti altri siano centinaia di chilometri distanti, ma questo non vuol dire che questa linea immaginaria, perché ovviamente è stata tracciata dalla mente degli uomini e messa su una mappa dalla mano umana, comunque non vuol dire non inficia quello che è il valore, il ruolo che questa via di San Michele aveva. Come dicevo era una via di pellegrinaggio, quindi un punto fondamentale era che comunque vide il passaggio di tantissimi, di migliaia, direi anche milioni di pellegrini, ma l'altro fatto importante era il valore religioso, spirituale che questa linea stessa ebbe. Questo ci può solo portare, ci può far solo pensare al fatto che sicuramente sarà affascinante continuare la ricerca in questo campo e quindi cercare di capire di più su come mai ci sia stata questa perfezione superiore o umana nel costruire questi santuari e dall'altra parte sarà bello cercare di approfondire il ruolo e la figura di San Michele e capire come mai questa linea sia stata da millenni, da almeno duemila anni, sia stata tracciata in maniera quasi perfetta e abbia passato l'Europa da una parte all'altra lasciando delle testimonianze veramente importantissime e lasciando comunque un monito contro le forze del male contro quello con cui San Michele Arcangelo ha sempre combattuto secondo la storia umana. Se l'argomento vi ha affascinato e vi ha interessato vi consiglio di andare sul mio canale YouTube basta che andiate su YouTube e digitate Enrico Baccarini e troverete il mio canale e troverete proprio un video che pochi mesi fa ho dedicato alla via di San Michele dove approfondisco e faccio vedere anche i luoghi principali in cui furono eretti gli eremi di cui parlavamo prima. Collegato a questo troverete anche un altro video molto interessante che riguarda il Monte Hermon che non è nella catena del Monte Carmelo ma ha un centinaio di chilometri di distanza più a nord nel Libano il Monte Hermon è importante perché secondo non tanto non solo l'Antico Testamento quanto tutta la tradizione apocrifa fu il luogo in cui i famosi angeli ribelli i duecento angeli che furono scacciati si parlava prima di Satana dal Paradiso scesero sulla terra e da lì decisero di unirsi alle figlie degli uomini e quindi di dare origine a tutta una genia che in questo caso l'Antico Testamento chiama con il nome Nephilim Nephilim che sarebbero stati giganti Nephilim che sarebbero stati dotati di poteri sovraumani angeli ribelli, loro padri che avrebbero insegnato secondo tante tradizioni apocrife all'uomo l'arte della metallurgia le scienze, l'arte dell'agricoltura quindi vedete come tante tradizioni in tutto il pianeta ma anche in questo caso il mito di esseri che scendono dal cielo definiti divini e che forse divini non erano e che insegnano i rodimenti appunto della civilizzazione e della civiltà agli uomini li troviamo ovunque la cosa curiosa del Monte Hermon al di là che si trova il Libano appunto che ospita anche il sito di Balbeck penso molti di voi lo conosceranno per questi enormi megaliti del peso in alcuni casi di 1200-1400 tonnellate quindi qualcosa di pazzesco beh il Monte Hermon è chiamato anche il Monte del Gioramento proprio perché quando i 200 angeli ribelli così definiti scesero dal cielo o dal cosmo sul nostro pianeta capitanati secondo la tradizione apocrifa dall'angelo Segniasa appunto giurarono che si sarebbero uniti alle figlie degli uomini e avrebbero dato origine a una nuova razza una nuova genia la cosa curiosa è che sono stati trovati proprio dei santuari vicino alla sommità del Monte Hermon santuari dove in alcuni casi sono state rinvenute delle iscrizioni in cui si afferma proprio che quello era stata la montagna in cui gli angeli caduti avevano fatto un giuramento da cui il nome Monte del Giuramento quindi vedete quanto affascinante certe volte è la storia e quanto collegando i puntini ci siano tante cose ancora da dover scoprire o da poter comprendere la domanda che mi faccio io è se la questione che lega l'arcangelo Michele, i suoi santuari in questo caso anche il Monte Hermon non sia una tradizione che si è innestata su qualcosa di preesistente quindi un vedere con gli occhi del cristianesimo del cattolicesimo delle tradizioni, delle conoscenze degli eventi che sono avvenuti in tempi molto più antichi e in cui si è sostituito i personaggi con quelli appunto dell'arcangelo Michele o degli angeli caduti ma che nella realtà dei fatti avevano altre figure quindi anche qua la storia ci mostra e dimostra in tantissimi casi come tante tradizioni siano state alterate, modificate i nomi di certi personaggi siano diventati altri proprio in ragione di nuovi culti che venivano in essere uno tra tutti e poi passiamo all'ultimo argomento di questa serata è la tradizione del diluvio dell'Antico Testamento come ben sapete e molti di voi sapranno buona parte di quella che è la tradizione dell'Antico Testamento è stata copiata letteralmente dal mondo sumero da tutta quella che è la tradizione dell'epopea di Gilgamesh e di Utnapishtim che sarebbe appunto il Noè per i Sumeri nella famosa cattività babilonese il popolo ebraico integrò all'interno delle proprie scritture e delle proprie conoscenze questo mito del diluvio modificandolo, facendolo su e trasformandolo in quello che appunto possiamo leggere nell'Antico Testamento un altro argomento molto importante e molto interessante di cui vi volevo parlare stasera riguarda appunto antiche civiltà antiche civiltà scomparse bene, non ne abbiamo parlato mai in questa sede inizieremo stasera e sicuramente riprenderemo l'argomento in appuntamenti futuri ma ci sono tutta una serie di dati lo abbiamo visto in una delle prime live che facciamo insieme che ci portano a credere con un altissimo grado di sicurezza che prima della nostra ovviamente ci sono state almeno una se non altre civiltà distrutte come abbiamo detto tante volte anche nei libri che ho scritto da quello che è stata la fine dell'ultima glaciazione avvenuta circa 12-13 mila anni fa in uno span temporale abbastanza ampio e che dopo bigliaia di anni appunto di questa glaciazione vide lo scioglimento di enormi masse di ghiaccio che si trovavano sulla terraferma in alcuni casi queste masse di ghiaccio erano spesse fino a 2 km ovviamente si trovava, si trattava di acqua congelata su un territorio emerso e quindi quest'acqua nel momento in cui va a sciogliersi e quindi a ritornare al mare che era stato il suo logo di origine innalza i livelli marini in maniera spropositata si parla in tutto il pianeta di almeno 120-140 metri di aumento dei mari a livello globale e questo ci dimostra come dall'India a Yonaguni in Giappone a Cuba in tantissimi luoghi si trovino delle città sommerse collegate e correlabili proprio a questo periodo ecco questo enorme cambiamento climatico si attuò sicuramente in tre tempi diversi il momento più importante fu appunto nel 10.500 a.C. e per chi magari fosse curioso e volesse anche approfondire l'argomento lo rimando ad esempio ai libri di Hancock, di Graham Hancock come Civiltà sommerse o di Robert Boval, Robert Chocco altri studiosi che appunto hanno studiato da un punto di vista rigoroso, scientifico questo tema, quello che ci interessa è vedere quelli che sono stati questa sera appunto alcuni degli studi, una scoperta in particolare molto recente che cambia un po' le carte in tavola anzitutto vi volevo fare vedere sempre una cartina così almeno con le immagini riusciamo a vedere meglio le cose vedete questo è una mappa del nostro pianeta una mappa bidimensionale e in questa mappa vedete delle aree più scure sono delle aree che la tradizione, gli studi appunto scientifici fin dall'inizio del Novecento hanno identificato i luoghi nevralgici in cui inizia l'agricoltura ora cosa succede? C'è la fine dell'ultima glaciazione secondo l'archeologia, secondo la storiografia ufficiale l'uomo prima di quel periodo era sullo stile dei Flintstone quindi l'uomo viveva in caverne aveva un livello di civilizzazione molto arretrato non esistevano realtà urbane sviluppate l'uomo viveva di nomadismo, di caccia e si cibava delle poche radici che trovava sul terreno cosa succede? queste macchie nere che vedevamo e vi faccio rivedere sono, secondo il primo studioso che iniziò a mapparle a identificarle, i primi luoghi in cui si sviluppò l'agricoltura e questo è interessante perché l'agricoltura se voi andate a prendere qualsiasi libro troverete scritto che inizia appunto tra il Novemila Cinque e il Diecimila a.C. quindi proprio alla fine dell'ultima glaciazione quando comunque sia il terreno nonostante ampie zone fossero acquiterinose proprio per queste enormi masse di acqua che si erano sciolte comunque certe zone permettono l'inizio di quello che poi verrà definita la rivoluzione agricola la cosa curiosa è che questa mappa che vi facevo vedere venne realizzata, se non erro, negli anni venti da Nikolai Vavilov, un russo che aveva viaggiato in tutto il pianeta e aveva visto e dimostrato anche scientificamente ma aveva raccolto prove in tutto il pianeta come esistesse quasi contemporaneamente una curiosa evidenza cioè il fatto che l'agricoltura compare quasi in maniera speculare dal Nord America al Sud America, dall'Africa all'India al Giappone all'Australia più o meno nello stesso momento e questo è un po' un nonsense logico e storico perché com'è possibile che città che non erano in contatto tra di loro che non avevano modo di parlare tra di loro sviluppino questa rivoluzione agricola più o meno contemporaneamente ma la cosa che scoprì Vavilov ancor più affascinante e interessante è il fatto che buona parte dei primi campi coltivati della nascita dell'agricoltura non avviene a un livello più o meno uguale a quello marino quindi in zone pianeggianti o di pianura ma avviene in zone abbastanza elevate in alcuni casi anche a 1000-1500 metri di altitudine cioè praticamente l'agricoltura nasce in montagna e questo è qualcosa di assurdo perché? Beh, delle spiegazioni ci sono prima di tutto perché, come si diceva con la fine della glaciazione tante zone pianeggianti probabilmente non permettevano la creazione di campi da coltivare erano zone paludose o comunque acquitrinose e quindi il terreno non era adatto per creare delle coltivazioni in seconda battuta sicuramente certe zone poste a una certa altezza considerate che il clima era diverso non è quello che abbiamo oggi erano più congeniali appunto per sviluppare questo sistema ma com'è possibile che, come vi facevo vedere come si diceva, quasi contemporaneamente in tutto il pianeta più o meno nel 9500-10.000 a.C. si sviluppa l'agricoltura beh, non c'è una spiegazione e l'archeologia, la storiografia non sa dare una spiegazione forse la possiamo proporre a noi ed è ovviamente una ipotesi a rigor di logica cioè, come ci raccontano, come si diceva prima tanti miti del diluvio probabilmente quelli che erano stati superstiti gli esuli di questo immane cataclisma che era avvenuto non solo si disperdono lungo tutto il pianeta ma nel momento in cui arrivano in quello che sarà il luogo in cui rinizieranno a creare una civiltà molto probabilmente, almeno secondo la mia opinione ma anche quella di tantissimi altri ricercatori non faranno altro che riniziare quello che avevano interrotto prima quindi a coltivare il terreno e quindi a creare l'agricoltura per come la conosciamo può sembrare assurdo, può sembrare ridicolo ma mi piace sempre ricordare siti come Gobekli Tepe Carantepe che sono successivi alla fine della glaciazione ai miti del diluvio ma sono siti che ci dimostrano come l'uomo del 9500 a.C. se non prima, perché Carantepe è stata datata all'11.000 11.005 a.C. disponevano dei mezzi e delle conoscenze per costruire dei templi veramente stupefacenti, affascinanti, bellissimi dei templi che non hanno niente a che vedere con Stonehenge Stonehenge è molto più arretrato rispetto a Gobekli Tepe o a Carantepe e queste persone sicuramente erano in grado anche di coltivare di allevare animali e siamo in un periodo storico secondo cui per la storiografia ufficiale queste persone non potevano avere quel livello di tecnologia o quel livello di civilizzazione dati alla mano, siti archeologici alla mano Gobekli Tepe, Carantepe, Ciatalu Yuc e tantissimi altri tutto il pianeta che si stanno scoprendo piano piano ci dimostrano il contrario quindi l'evidenza dei fatti, l'evidenza archeologica smentisce quello che era stato un dogma che un certo mondo accademico aveva sostenuto e continua a sostenere da molto tempo torneremo su questo argomento anche perché recentemente ho letto un libro veramente bello non vi anticipo nulla ma un libro veramente bello scritto da due studiosi che mettono totalmente in discussione quello che è le origini della civiltà umana e lo fanno da un punto di vista accademico non si parla di altre civiltà prima di noi non si parla di alieni ma si parla di un rivedere con occhi diversi quello che è appunto l'origine della razza umana e soprattutto delle prime civiltà però questo ci dimostra come i dogmi di certi dogmi non tutti ovviamente del mondo accademico decadano nel corso del tempo fu Max Planck a dire che certe idee non possono prendere piede finché quelli che sono i baroni del vecchio mondo accademico non passano a miglior vita e quindi i giovani di allora che diventano i vecchi e di dopo non possono proporre nuove idee questo avvenne perché? perché la fisica quantistica quando nacque all'inizio del novecento venne vista malissimo di cattivo occhio da tutti quelli che erano gli studiosi dell'epoca lo stesso Albert Einstein che è stato un rivoluzionario geniale con la sua teoria della relatività e tantissimi altri suoi studi però considerava cavolate la fisica quantistica mentre poi il tempo ci ha dimostrato come la fisica quantistica sia fondamentale nel mondo sensibile e ultrasensibile quindi vedete come tante volte bisogna solo aspettare che le nostre conoscenze vadano avanti e che il tempo faccia il suo corso tornando al nostro argomento si parlava dei centri di Babilo che cosa succede? beh, pochi anni fa viene fatta una scoperta in Giordania veramente incredibile abbiamo dato delle date fino a poco fa e queste date ci dicono che più o meno tra il 10.000-10.500 avanti Cristo finisce l'ultima glaciazione ci sono sconvolgimenti a livello globale probabilmente nascono tutti quei miti centinaia di miti del diluvio che ci parlano di superstiti che si salvano da questo cataclisma a questa distruzione globale beh, cosa succede però? in Giordania pochi anni fa viene scoperta in un sito che si chiama Shubaika Shubaika 1 perché poi nel corso del tempo sono stati trovati altri siti simili vengono scoperte praticamente dei frammenti dei pezzettini di pane di focacce carbonizzate cotte che però quando vengono essendo organiche vengono datate al carbonio 14 danno un risultato assurdo incredibile impossibile perché sono datate e databili a 14.400 anni fa avete sentito bene un'epoca precedente a quella che è la fine dell'ultima glaciazione ora, c'è da dire che il radiocarbonio o carbonio 14 non è un metodo infallibile esiste uno span temporale quindi un lasso temporale in cui c'è uno scarto un errore attribuibile ma è dell'ordine di qualche secolo non di più questi 24 frammenti di pane cotto che sono stati rindenuti in Giordania a Shubaika 1 sono indubbiamente risalenti al 14.000 anni fa quindi almeno al 12.000 avanti Cristo e cosa ci dimostrano? Ci dimostrano anzitutto che si creava il pane prima dell'agricoltura la domanda a cui non è ovviamente stata data risposta è fondamentale per capire come ci fosse una conoscenza una tecnologia e forse anche delle o una civiltà precedente come posso arrivare a creare il pane se non ho l'agricoltura quindi se non ho la coltivazione di sementi di grano se non ho anche solo l'idea di come poter utilizzare quel frumento per trasformarlo in qualcosa di diverso per creare il pane poi bisogna decorticare quelle che sono le piante essiccate e quindi raccolte bisogna attuare tutta una serie di lavorazioni che non sono assolutamente facili e che necessitano di tempo di essere scoperte e quindi di essere collegate tra loro per passare dall'agricoltura dalla coltivazione di grano frumento mais e quant'altro a un processo che piano piano mi porta alla realizzazione del pane quindi come è possibile che siano state ritrovati frammenti di pane anche in alcuni casi abbastanza grossi ma che risalgono a 14.400 anni fa la scoperta è stata epocale perché anzitutto da parte di certi studiosi si è detto che bisogna retrodatare di almeno 4.000 anni l'agricoltura perché ovviamente è un nonsense storico questa scoperta dall'altro ovviamente non si è voluto andare oltre non si è voluto approfondire rispetto a quello che già era stato detto e quindi è rimasta una scoperta importantissima ma non si è detto nulla di più nella nostra ipotesi a noi ci piace fare ipotesi ci piace ragionare insieme a voi per vedere se ci sono possibili collegamenti anche di altra natura nella mia ipotesi nell'ipotesi di alcuni studiosi con cui mi sono anche confrontato nell'ultimo periodo è il fatto che molto probabilmente queste conoscenze per realizzare il pane quindi parallelamente per un'agricoltura prima di quanto si credesse fossero anche qua come si diceva per i centri di Babilob forse il retaggio di qualcuno che c'era prima di una o più civiltà che erano stanziate in quella zona in Giordania e che avevano raggiunto prima di quanto la storia ci abbia detto e raccontato fino ad oggi dei livelli tecnologici non paragonabili ai nostri ovviamente ma comunque elevati elevatissimi per quell'epoca che gli avevano permesso di sfruttare l'agricoltura prima dei tempi noti e quindi poi realizzare quello che è stato ritrovato cioè dei pezzetti di pane dei frammenti di pane risalenti a 14.400 anni fa tutto questo che cosa ci dice? ci dice che noi abbiamo veramente una conoscenza del nostro passato infinitesimale che siamo veramente neanche alla punta di un iceberg il cui corpo è nascosto e è ancora tutto da riscoprire sotto sotto l'acqua usando una metafora ci troviamo davanti a una necessità di tentare e di dover riscoprire quello che è il nostro passato quelle che sono state sicuramente delle civiltà precedenti alla nostra attuale in India che studio da tanti anni mi viene in mente che tante tradizioni raccontano che noi saremo la quinta civiltà che si è avvicendata e succeduta su questo pianeta perché negarlo? perché non considerarlo plausibile? ci sono tanti elementi tanti fattori in tutto il pianeta che sembrano dimostrarcelo oggi anche a livello archeologico Gobekli Tepe ritorna sempre su questo punto ma perché oltre ad averla visitata diversi anni fa ed esserne rimasto affascinato Gobekli Tepe ci dimostra come nel 9500 avanti Cristo quindi ben 11.000 anni fa quasi 12.000 anni fa dei gruppi umani si fossero uniti insieme avessero creato qualcosa di unico e di stupendo quindi dobbiamo rivedere la storia con nuovi occhi dobbiamo prendere i miti che ci raccontano la nostra storia e leggerli con occhi diversi e indagare un po' come fece Schliemann prendendo i poemi omerici e quindi cercando la possibile ubicazione della troia omerica e quindi scoprendola nella collina di Isserlich partì da un mito partì da una leggenda eppure poi trovò qualcosa che era esistito veramente ora non è detto che noi riusciremo in ogni caso e sempre a trovare degli elementi tangibili dietro un mito però come vedete tante prove e tanti elementi ci stanno descrivendo delineando un passato ben diverso da quello che abbiamo studiato creduto o ritenuto fino a poco tempo fa e queste scoperte da Shubaika 1 con del pane di 14.400 anni fa ai centri di Babilov a siti che sono sommersi in India in Giappone a tantissime altre scoperte che vengono effettuate quasi costantemente in tutto il pianeta ma che passano un pochino sotto silenzio in sordina rispetto ad altre notizie più mainstream ci raccontano una storia diversa quindi l'impegno personale mio ormai da tantissimi anni come quello di tanti altri ricercatori è quello di scavare cercare queste tracce indagare e provare a delineare una storia antica diversa da quella che conosciamo e quindi arrivare forse a riscoprire quella che è la vera storia della nostra umanità delle nostre civiltà e del nostro pianeta quindi è un monito che tutti dovremmo prendere e nelle proprie possibilità portare avanti io vi ringrazio vi ringrazio per questa serata che non è in live ma indifferita ma comunque torneremo prestissimo a parlare insieme a ragionare insieme su nuove scoperte su temi che riguardano il passato e non solo io vi ricordo di continuare a seguirci su focus 3.0 che ringrazio come sempre per l'ospitalità che mi dà ogni mese vi ricordo che ho un canale youtube Enrico Baccarini semplice e sono presente sui social quindi se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale youtube seguitemi sui social e vi mando una buona notte e ci vediamo prestissimo grazie a tutti